Non ha rispettato in più di un'occasione l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a cui era sottoposto in seguito all'arresto per un furto commesso a Zafferana Etnea lo scorso 25 maggio. Un 19enne di maschere è stato così arrestato poiché era giunto da misura cautelare ai domiciliari emessa dal GIP su richiesta della procura di Catania. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri della locale stazione nell'ambito di una più ampia attività di controllo del territorio che ha visto impegnati tutti i militari della compagnia di Giarre insieme ai colleghi della compagnia di intervento operativo del battaglione Sicilia. Quattro in tutto le persone denunciate, due tra Giarre e fiume freddo di Sicilia per furto aggravato. Grazie all'ausilio del personale tecnico dell'Enel i carabinieri hanno accertato che entrambi avevano allacciato illecitamente il contatore delle proprie abitazioni alla rete elettrica pubblica e dovranno invece rispondere di guida senza patente poiché è già revocata con recidiva agli altri due soggetti denunciati poiché sorpresi a guidare le proprie autovetture. Segnalati infine alla prefettura di Catania due giovani poiché è trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.